Buongiorno a tutti, faccio questa diretta, l'ho già fatta nell'autoprofilo mio privato, preferisco farlo anche in questo in modo da informare più amici possibili. Dato questo periodo storico particolare e dato anche l'ultimo decreto legge, il governo ha cercato di farci capire in modo magari un po' difficile da comprendere per alcuni di voi un concetto chiaro che l'unico modo per combattere e contenere i virus e che ha da stare a casa, ha da stare in su la casa, forse non ha capito, non ha venito per i peri a fare l'aperitivo, ha da stare a casa, ha da stare a casa, ho capito? Sì o no? Non ha venito per i peri a fare i shopping con i venniti, non ha spennuto mai i soldi, ore di coppo, vi dà voglia di spennare in su, ha da stare a casa, ha da stare a casa, ho capito oppure no? Spero di essere stato chiaro, per qualsiasi alta delucidazione potete pure contattarmi in privato e se volete potete pure condividere questa diretta per spiegare a qualche amico questo concetto molto chiaro. Grazie e una buona giornata a tutti, a presto, mi raccomando, ce la faremo. A casa!